Papa Francesco oggi giubileo dei militari in piazza San Pietro, il monito del Papa oggi siate artigiani della riconciliazione, ha esortato tutti a riconciliarsi con Dio ma anche riconciliazione nelle famiglie, nelle comunità ecclesiali perché dice la riconciliazione è anche un servizio alla pace, il servizio. L'udienza giubilare di oggi con Papa Francesco è il cuore delle celebrazioni programmate per il giubileo dei militari, è il secondo giorno infatti delle celebrazioni che si concluderanno il primo maggio con la messa presieduta dal cardinale Parolin. La sua porta è sempre aperta, il filo conduttore del giubileo della famiglia militare di polizia che si è aperto a Roma ieri 29 aprile. L'appuntamento cade a 30 anni dalla promulgazione della spirituali militum cure, la costituzione apostolica voluta da Papa Giovanni Paolo II per una più efficace cura spirituale dei militari ed una concreta e specifica forma di assistenza pastorale. Al centro della catechesi la riflessione di Papa Francesco sulla riconciliazione. In particolare il Papa ha sottolineato come Dio non smetta mai di offrirci il suo perdono. Spesso riteniamo che i nostri peccati allontanino il Signore da noi. In realtà peccando, dice il Papa, noi ci allontaniamo da lui, ma lui vedendoci nel pericolo ancora di più viene a cercarci. Dio non si rassegna mai alla possibilità che una persona rimanga estranea al suo amore, a condizione però di trovare in lei qualche segno di pentimento per il male compiuto. Papa Francesco ha poi aggiunto che con le sole nostre forze non ce la facciamo a riconciliarci con Dio e che stando lontano da Dio non abbiamo più una meta e da pellegrini in questo mondo diventiamo erranti. Nessuno rimanga lontano da Dio a causa di ostacoli posti dall'uomini e il monito di Papa Francesco, questo giubileo della misericordia, un tempo di riconciliazione per tutti. Il Papa ha ricordato che tante persone vorrebbero riconciliarsi con Dio ma non sanno come fare o non si sentono degni o non vogliono ammetterlo nemmeno a se stessi. Allora, continua il pontefice, la comunità cristiana può e deve favorire il ritorno sincero a Dio di quanti sentono la sua nostalgia e soprattutto quanti compiono il ministero della riconciliazione. Sono chiamati ad essere strumento docili allo Spirito Santo perché laddove ha abbondato il peccato possa sovrabbondare la misericordia di Dio. Facciamo ponti di riconciliazione anche fra di noi, ha detto ancora il Papa, cominciando dalla stessa famiglia. Fare esperienza della riconciliazione con Dio, ha precisato Papa Francesco, permette di scoprire la necessità di altre forme di riconciliazione nelle famiglie, nei rapporti interpersonali, nelle comunità ecclesiali come pure nelle relazioni sociali e internazionali. Nel salutare i pellegrini francesi, Papa Francesco ha esortato a lasciarci riconciliare con Dio e ad essere ovunque artigiani di riconciliazione, costruttore di ponti e seminatori di pace.